a tre chilometri prendi l'uscita Pizzo verso Pizzo C Vigo Marina fai un saluto ciao ciao stiamo andando a Serra San Bruno in provincia di Vibbo, Valencia mancano ancora 15 minuti sto andando a Calabria uscire da Pizzo da 9 tra 800 metri prendi l'uscita Pizzo verso Pizzo C Vigo Marina ecco, non ci fanno sci c'è qualche emergenza una macchina appiedata peccato un'altraупrima sia un'altra 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 anche un'altra un'altra Grazie a tutti.